Il pomodoro pelato nella pasta alla norma mi riporta la mia infanzia, quando con i miei genitori facevo le conserve e poi mi permette di avere comunque un pomodoro dolce tutto l'altro. Con il cornellato dei eggs. Voi mettiamo la 350 g di carne e cremo la una numero 15 aggiornata del 50 g di carne. Perciò 20 g di carne e 80 g di carne. ciao alla prossima ciao alla prossima